Salve a tutti gli affezionati al canale ArtLive 2.0. Greta Thunberg, questa ragazzina 16enne attivista dei cambiamenti climatici, la conosciamo tutti. Ma cosa si nasconde dietro questo personaggio? Analizziamo e critichiamo il caso dopo aver lanciato la sigla. I suoi sogni e la sua infanzia sono stati rubati, ma non sono stati rubati dai leader mondiali. Sono state rubate dai suoi stessi genitori e tutori. Furono rubati ad ogni singolo individuo che la rallegrava e la incoraggiava a continuare quando ovviamente soffriva. In molti hanno visto il discorso lunedì di Greta, l'attivista climatica di 16 anni. Ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite sulle minacce del cambiamento climatico. I videoclip del suo discorso sono diventati virali sui social media e hanno suscitato reazioni piuttosto polarizzanti per dirle in modo lieve. Il discorso che ha fatto è francamente inattaccabile. Non è tanto il contenuto del suo discorso a renderla insopportabile, ma il modo in cui lo dice, sebbene il contenuto abbia avuto un ruolo significativo. Anche se ci renderebbe impopolari schierarsi contro, l'ovvio ha bisogno di essere detto. Era orribile. Molto difficile da guardare. C'è una ragione per cui Greta Thunberg, che soffre di Asperg, è il nuovo volto dell'attivismo per il cambiamento climatico. È una sedicenne con un evidente problema di salute, pertanto può cavarsela con molte cose che le persone più grandi di lei non possono. E se qualcuno osa criticarla, potrebbe poi essere criticata a sua volta per aver attaccato una bambina. Usare i bambini per la propaganda è una delle cose più vili che chiunque possa fare. È fatta con la piena consapevolezza che nessun adulto si sente bene nell'essere scortese con un bambino e nel dire cose dure su di loro. Il suo discorso andrebbe analizzato soprattutto per alcuni atteggiamenti e utilizzati verso i potenti. Frasi come Il mio messaggio è che ti guarderemo. Questo è tutto sbagliato. Come osi. Il modo in cui viene detto è semplicemente brutto. Non è proprio il modo di parlare con gli anziani. Certo, sono leader mondiali e alcuni di loro forse si meritano molto peggio. Tuttavia ci sono norme di civiltà che devono essere osservate. Non credo che tutti i leader mondiali debbano essere esposti a tali insulti. Va bene, forse Imran Khan se lo merita e Angela Merkel e forse Xi Jinping e pochi altri, ma certamente non tutti. Greta poi li ha accusati per aver rubato i suoi sogni e la sua infanzia. Ha detto Hai rubato i miei sogni e la mia infanzia con le tue parole vuote. Eppure sono uno dei fortunati. La verità è che nessun leader mondiale ha rubato i suoi sogni e la sua infanzia. I suoi genitori invece lo hanno fatto. In un modo sano, i suoi genitori sarebbero stati processati per abuso di minori. Viene trattata come una merce per fare soldi e guadagnare un po' di fama. Ha ovvi problemi di salute e questo ci dispiace. Soffre di sindrome di Asperger, un disturbo ossessivo compulsivo e mutismo selettivo. Il minimo che i suoi genitori e tutti quelli che la circondano potrebbero fare è rendere la vita più facile e non più difficile come stanno facendo. Greta conclusa il suo discorso con altre minacce. Ci stai deludendo? Ma i giovani stanno iniziando a capire il tuo tradimento? Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di te? Non ti perdoneremo mai? Non ti lasceremo andare via? Ecco, queste sono tutte frasi naturalmente che colpiscono. Tutte queste minacce sono piuttosto divertenti poiché Greta Thunberg è stata in grado di tenere quel discorso alle Nazioni Unite solo perché i leader mondiali erano abbastanza gentili da accettarla. Possiamo tranquillamente affermare che non sarà in grado di offrire simili sermoni da Pechino. Ai cinesi non piace essere tenuto a lezione da nessuno, tantomeno da sedicenni. Il minimo che avrebbe potuto fare è essere un po' più cortese. Non stava cercando di discutere. Voleva semplicemente battere qualcuno con il bastone in mano e gli anziani nella stanza erano abbastanza gentili da permetterle di divertirsi. Il teatrino che abbiamo visto al vertice delle Nazioni Unite fanno solo un grande disservizio a coloro che credono nei cambiamenti climatici. Era tutto un atto. Tutti sanno che erano un atto. Stava leggendo ogni singola parola da un pezzo di carta e si sforzava molto di farci provare delle emozioni. Che i cambiamenti climatici sono una constatazione di fatto ormai è evidente a tutti e lo vediamo tutti i giorni alzando gli occhi in cielo. Un esperto dell'Artico nel 2012 ha previsto che il ghiacciaio marino delle regioni artiche sarebbe crollato entro quattro anni. Non è successo nulla di remoto. Nel 2009 allora il primo ministro britannico ha previsto che avessimo solo 50 giorni per salvare il pianeta. Da allora è passato un decennio. Nel 2007 i scienziati delle Nazioni Unite hanno previsto che mancavano solo 8 anni per evitare un pericolo della temperatura media globale di 2 gradi e più. Inutile dire che si trattava di un'alta previsione fallita. Tali previsioni non sono iniziate negli anni 2000 ma sono iniziate nel lontano 1989. San Josep Mercury News riportava il 30 giugno del 1989 che un alto funzionario ambientale delle Nazioni Unite affermava che intere nazioni potrebbero essere spazzate via dalla faccia della Terra dall'innalzamento del livello del mare se il riscaldamento globale non fosse invertito entro l'anno 2000. Sono trascorsi 19 anni da allora e tuttavia non ci sono state conseguenze a tal fine. Le previsioni allarmistiche sono state costantemente sbagliate per 30 anni e tuttavia attivisti come Greta lo usano per promuovere la loro narrazione. Nel corso dei decenni gli scienziati hanno escorcitato teorie del giorno del giudizio. Negli anni 70 era il raffreddamento globale, poi c'era l'esaurimento dello strato di ozono in cui quasi nessuno parla ora. Poi c'è il riscaldamento globale e improvvisamente ora il cambiamento climatico. È davvero interessante come il termine Global Warring si è improvvisamente passato di moda e sia stato sostituito da Climate Change, un termine molto più vago. I cambiamenti climatici sono reali e questo non c'è nessun dubbio. Ma quando vedo persone che si sono costantemente sbagliate negli ultimi 30 anni emettendo sermoni terribili mi fa sentire molto sospettoso, soprattutto quando usano una ragazza di 16 anni con problemi di salute per fare il punto. Potrebbero avere regione, ma li trovo sempre più difficili da prenderli sul serio. Sicuramente questo discorso sarà molto impopolare per molti. Però, detto questo, credo che vi sia un urgente bisogno di affrontare l'inquinamento e le preoccupazioni ambientali. L'inquinamento sta distruggendo la bellezza del nostro mondo. Ci sono molte cose che potremmo fare per rendere le nostre città più vivibili, gli oceani più puliti e il nostro modo di vivere meno inquinanti. Credo che dobbiamo affrontarlo seriamente a questo problema. Tuttavia, nel mezzo di tutta questa cacofania di un'apocalisse imminente, nel rumore si perdono preoccupazioni molto urgenti. A tal proposito, sarei molto curioso di conoscere i vostri commenti. Grazie per l'attenzione e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie per la visione!